è stato molto faticoso molte serate il caldo ha stancato più del lavoro stesso e quindi magari stato si fa un po sentire la stanchezza degli ultimi giorni ma c'è un grande entusiasmo la troupe in questi giorni in queste settimane anzi si è unita molto e quindi nonostante tutti forse sentono un po la fatica del lavoro in realtà sono ancora più entusiasti rispetto all'inizio di stare qui e di portare a termine quello che abbiamo iniziato a differenza dello spettacolo teatrale in cui siamo solo io e marco raccontare le storie contenute nel copione la sceneggiatura previsto la partecipazione di altri attori quindi la famiglia diciamo si è allargata molto è stato bello ad esempio giovedì scorso avevamo con noi 33 comparse per girare la scena del concerto dei Pink Floyd dell'88 quando suonarono a Berlino Ovest anche da parte loro c'è stato un sacco di entusiasmo c'era una sala del Santarelli completamente piena di fumo e con un caldo assurdo nonostante questi ragazzi sono rimasti con noi dalle 9 di sera fino alle 5 del mattino e non hanno mollato un attimo e quindi è bello come questo progetto così come era stato per Rwanda riesca da a raccogliere l'entusiasmo di tantissime persone dal dalla troupe quindi dai tecnici dal dal dagli attori dalle comparse questa cosa mi stupisce sempre a volte mi chiedo perché Michela che sul set con noi più ma aiuto scenografa mi ha dato una risposta lei dice sai quando credi in un progetto e sei onesto con il messaggio che vuoi dare come se si creasse una sorta di magia che vuoi dare come se si creasse una sorta di magia che vuoi dare come se si creasse una sorta di magia